È un momento molto difficile per la squadra italiana, si aspetta il rigore, ovviamente l'Italia fuori di questa Coppa potrebbe essere una catastrofe, vediamo chi sarà il giocatore, mi sembra, eccolo lui, è il numero 20, ragazzi, si sta preparando adesso al tiro, il portiere argentino nervosissimo, ecco la rincorsa, siamo fuori, siamo fuori della Coppa, un giorno tristissimo, è finita ragazzi.